Mi trovo sul Ponte Punta Penna, una storia infinita questa della illuminazione, la responsabilità, la competenza e dell'ANAS. È una storia che si ripete ormai da anni e da anni, vengono puntualmente e sistematicamente fatti i lavori, vengono installati impianti elettrici, lavori su lavori, interruzione della circolazione veicolare, grande casino, automobilisti in tilt, automobili in tilt, lo avete già visto, avete vissuto questa situazione, per avere quale risultato il nulla assoluto. Vedete, tanto di lampioni e le luci da mesi e mesi spente. Questo cosa significa? Che c'è un ANAS di incapaci a tutti i livelli, dalla dirigenza fino evidentemente alle ditte che realizzano i lavori. La competenza è quella dell'ANAS ovviamente, ma dobbiamo anche considerare le incapacità degli enti locali, perché io sindaco, io presidente della provincia, prendo per le orecchie il direttore dei lavori, prendo per le orecchie i vertici dell'ANAS e mi faccio rispettare, perché dico signori cari, è vero che la competenza è vostra, ma stiamo parlando di un territorio che riguarda il mio ambito in cui sono sindaco, in cui sono presidente della provincia. Questo significa essere amministratori, non stare seduti, riscaldare la sedia, tagliare i nastri come ha fatto Melucci e come continua a fare gugliotti. Questo significa? Significa alzare la voce, significa confrontarsi con gli enti di competenza, perché stiamo parlando di problematiche riguardanti Taranto. Il sindaco di Taranto deve necessariamente confrontarsi con l'ANAS, il presidente della provincia deve fare lo stesso, invece qui il nulla assoluto. Guardate che scempio dei rischi enormi per chi transita, ma non solo a livello veicolare, ma anche se ci dovesse essere qualche emergenza e di qualche pedone che per qualsiasi motivo deve fermarsi con la macchina. Qui abbiamo buio assoluto e veicoli che sfrecciano. Da sindaco, augurandomi di diventarlo, ma vedo un grandissimo consenso che cresce di giorno in giorno, quasi a dismisura, scusate la presunzione, ma è la realtà. Da sindaco alzerò la voce, da sindaco farò capire cosa significa davvero essere il primo cittadino e non essere una persona che sta lì tanto per stare e per dire signor sì, signor sì e magari stringere le mani ai vertici dell'ANAS, giusto così per fare le solite scenette, le solite sceneggiate, le solite passerelle così istituzionali. Ecco, questo è il risultato. Il cittadino paga le tasse e riceve questi servizi. Il cittadino è stato schiavo di questi lavori che sono durati mesi e mesi. Dice il cittadino almeno pazienza, mi sacrifico, ma un giorno avrò la luce. Cosa ha il buio assoluto? Ecco, prego il nostro operatore di fare il giochetto proprio con la telecamera. Buio, luce, buio, luce. Insistiamo per far capire quanti incapaci abbiamo, quante braccia sottratte all'agricoltura, con tutto il rispetto per quelli che davvero sanno lavorare la terra, perché questa gente, neanche la terra saprebbe lavorare. Bene, che dire, speriamo che mi diate la possibilità dal 13 giugno di far cambiare la musica. Dipende soprattutto da voi, con Cittadini di Taranto. Grazie a tutti.